In Abruzzo il mondo del volley è oggettivamente in difficoltà. Atleti ancora fuori dalle palestre, soprattutto lo sport di base in ginocchio. In alcuni casi spese impossibili da sostenere da parte delle società. Ad affrontare il tema caldissimo, l'avvocato Mattia Di Gregorio, presidente della Comitato Territoriale Abruzzo Sud-Est della FIPAV. Qui c'è stata una non assunzione di responsabilità da parte della politica Tucur, perché l'ente provincia di Pescara di fatto ad oggi non stipula convenzioni. A prescindere dal costo, tutte le palestre provinciali non possono essere usate dalle associazioni sportive. La provincia di Chieti invece di fatto ha dato la possibilità formalmente, o meglio non di fatto, di utilizzare questi impianti, ma addirittura richiede, cosa non prevista da nessuna norma di legge, cosa che non succede in nessun'altra parte in Abruzzo, una certificazione rilasciata da una ditta specializzata che sanifichi l'impianto ogni volta che la società la usa. Lei si immagini se ad oggi una società sportiva di base possa sopportare ad ogni allenamento un costo di 200 euro per sanificare un impianto con una ditta specializzata. Quando potrebbero farlo loro con i loro macchinari? Sono allo stremo soprattutto le attività di base, che sono quelle che subiscono i maggiori danni, perché sappiamo che c'è una moltitudine di bambini e di bambine che fanno attività e quindi il volley in questo caso. Quale può essere la soluzione? Perché lei è stato molto tranciante nella dichiarazione che abbiamo letto oggi sul quotidiano Il Centro. C'è qualcuno, tra virgolette, che non vuole che questo movimento si rialzi? Qualcosa del genere? Sì, sì, assolutamente sì. È necessario che si dica al di là del partito politico al quale io non appartengo e non mi interessa, e tra l'altro lo dico, le mie idee sono ben distanti rispetto a quelle che oggi ci sono a Pescaro o Montesilvano, ma Pescaro e Montesilvano oggi funzionano. Quindi è necessario sollevare questo problema e dire che in tante realtà la situazione è stata risolta grazie all'impegno, alla costanza e alla dedizione degli amministratori, e in tante altre realtà come il Comune di Chieti, il Comune di Lanciano, la provincia di Pescara e la provincia di Chieti, e faccio i nomi e ce ne sono anche altre, ma parlo delle realtà più grandi, nessuno si è assunto la responsabilità di decidere. Siccome loro si sono candidati e hanno scelto di essere amministratori, amministrare vuol dire prendere delle decisioni, rimanere in un limbo e non prendere decisioni non vuol dire amministrare. Chiudiamo dicendo che lo sport è di tutti e per tutti. Assolutamente, lo sport è di tutti e per tutti. Come ho scritto nella lettera, noi siamo felicissimi che ci sia attenzione allo sport di vertice, perché lo sport di vertice è una vetrina. Sono contento che a Chieti abbiano sistemato la questione dello Stadio Angelini, siamo contenti di tutto questo, però gli amministratori non devono dimenticare che le realtà di vertice esistono perché esiste una grande realtà di base. Se loro bloccano la grande realtà di base, tra quattro anni non servirà più neanche lo Stadio Angelini, perché noi saremmo completamente fermi.